In questo semplice tutorial vi spiego come personalizzare e modificare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento su Windows 11. Ovviamente possiamo farlo direttamente sulle impostazioni di Windows oppure attraverso il pannello di controllo di NVIDIA per le schede grafiche NVIDIA. Il pannello lo troverai sicuramente sul Microsoft Store, scarichi, installi e apri così il pannello di controllo di NVIDIA, invece per quelli che già lo tengono lo trovano direttamente qua sotto. tasto destro sopra, pannello di controllo NVIDIA. Una volta personalizzato tutto sul pannello di controllo ti faccio vedere come fare anche su Windows. Quindi modifica della risoluzione, voi dovete andare su PC, metti così la tua risoluzione più alta, velocità di aggiornamento. Io ho messo 165 Hz e basta, una volta fatto devi applicare così le impostazioni. Invece su personalizza, qua impostazioni schermo, basta che fai tasto destro sul desktop, così tasto destro sopra. Impostazioni schermo. Vai direttamente su risoluzione dello schermo ed eccola qua. 1920x1080. Questa è la risoluzione mia, quella più alta. Se vai invece su impostazioni schermo avanzate, scendi fino a oggi fino a trovare, scegli una frequenza di aggiornamento, quella che il tuo monitor supporta. Quindi se tu hai un monitor di 120 Hz, 160 Hz o 240 Hz e te lo ritrovi con 60 Hz, basta che clicchi qua sopra e lo modifichi. E hai fatto. Frequenza di aggiornamento dinamico. Per risparmiare energia, Windows regola la frequenza di aggiornamento fino alla frequenza selezionata sopra. Lo tengo disattivato questo. Tu puoi cambiare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento sul tuo sistema operativo Windows 11, così, senza nessun problema, facile e veloce. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.